Siamo in Lyon, a proposito di portare il taro Oceano. Questo può sembrare come il vostro avviso a portare, ma è in realtà un labo di scienze. Dopo aver girato la Francia e la Spagna, la nave dovrebbe arrivare ad Atene a luglio. Abbiamo parlato con il capitano dell'imbarcazione, Martin Artaud. Nel cuore della Tara si trova una cabina riconvertita a deposito di macchinari. Il ruolo del bateo Oceano è di collettare le informazioni. Abbiamo attraverso 4.000 prodotti chimici, come pesticidi, farmaceutici, che sono stati listati. Abbiamo guardato se li ritrovano già a terra e a terra, e quale sono le interacce con i microrganismi. Il Rodano attraversa la Svizzera e la Francia. È uno dei fiumi più grandi d'Europa, ma anche uno dei più inquinati, come spiega il responsabile degli affari pubblici della fondazione Tara. Nel 2023 l'Unione Europea ha emanato un nuovo regolamento che mira a ripristinare almeno il 20% delle aree terrestre e marine europee entro il 2030. Ma in che misura l'inquinamento locale ha un impatto a un livello più ampio? Le molecoli chimiche circule dans le mondo. On va les retrouver dans l'eau du Rhône, on va les retrouver forcément par nature après, dans les mers, dans les océans, on va les retrouver également dans l'atmosphère. Donc il n'y a pas de frontière à la pollution, il faut bien être conscient que tout ce qui affecte la nature quelque part l'affecte globalement.